Un caro saluto da Mario e Giuliaci. Il tempo previsto per sabato 18 marzo. Insiste sull'Italia dell'anticiclone nordafricano e quindi le perturbazioni atlantiche non sono in grado di sfiorare nemmeno il nord Italia. Quindi è previsto bel tempo. Attenzione a deboli gelanti e notturne sulle zone interne del centro nord. Massimo in tono 14-16 gradi, 17-18 gradi solo sulla Sardegna.